Professore, è in uscita il suo nuovo libro, Curare e prendersi cura. Un libro dedicato ai pazienti e anche ai volontari. Sì, direi di sì, perché in questo libro ho voluto veramente andare a fondo in quello che io considero fondamentale per la cura di un malato, che deve essere preso in cura. Non basta curarlo e basta, non basta dare dei farmaci. Per dare un protocollo terapeutico, se fosse sufficiente, quello basterebbe andare in farmacia e farsi dare la cura. Invece il malato deve essere valutato nel suo insieme come essere umano, come donna o uomo che ha bisogno di essere preso in cura, prendere in cura una persona, vuol dire seguirlo in tutti gli aspetti che la malattia può avere, cioè aspetti di qualità della vita, aspetti che possono compromettere, per esempio il rapporto uomo-donna. La vita sessuale di malati con una leucemia, un linfoma e con le cure che fanno può essere molto compromessa. Anche di quello si deve occupare il medico e l'infermiere. Il malato vuole questo. Io nel libro dico che bisognerebbe che il malato avesse nel medico e nell'infermiere un amico, un amico a cui può rivolgersi. Io dico anche nel libro una cosa che sembra di scarsa importanza, invece è fondamentale. In molti reparti il medico che segue il malato o l'infermiere che lo segue cambia, non è sempre quello. Allora un malato torna a fare una visita di controllo, il medico è un'altra persona che non l'ha mai visto, allora il malato deve, io mi chiamo Pinco Pallino, ho questa malattia, ho fatto questa cura. E come mai è qui? Il medico chiede. Se non lo sa lei mi avete dato appuntamento. Ma il medico non lo può sapere perché è stato spostato in quell'ambulatorio da poco tempo. addirittura quando io dico deve avere il suo infermiere, il suo medico, io lo ritengo veramente fondamentale. Che cosa ne pensa del metodo stamina? So che lei era molto contrario. Io sono stato contrario prima ancora che uscissero i dati contro questo metodo. E io torno a dire, mi commuovo quando penso a quei bambini, a quei genitori di quei bambini. Quindi è veramente dire che un qualcosa può far bene è una truffa che viene fatta nei confronti dei genitori. perché i genitori hanno sempre il diritto di sperare in qualcosa. La speranza non deve abbandonare i malati. Ma questa è una speranza che non ha basi. Quindi truffare dei genitori, dei bambini in fondo, solo per avere un ritorno economico, perché quello c'è sempre in base a queste terapie. In tutto il mondo ci sono terapie alternative. Le più strane, negli Stati Uniti hanno venduto una vitamina che chiamavano vitamina O, che poi si è rivelato che era acqua. Però per tanti mesi i malati pigliavano questa cosa che non era niente e dicevano che faceva bene. E sa perché qualche volta le cure alternative hanno successo? Perché i medici che danno le cure alternative hanno tempo libero da passare con i malati. Per avere una buona qualità della vita è importante nutrirsi bene e soprattutto ricordiamo evitare di fumare. Il fumo uccide e quindi assolutamente deve essere eliminato. Non solo dai malati. La prima cosa che dico a un malato che viene a farsi evitare da me, se lei fuma la prima cosa che deve fare è non fumare mai più. Anche alimentarsi bene, l'alimentazione è importante. Anche quello è un aiuto per fare dei controlli periodici. Controlli periodici che devono essere fatti guidati dal medico di famiglia. Il medico di famiglia bravo esiste ancora, ce ne sono molti. Allora il malato deve chiedere ogni quanto devo fare i controlli. E sa che cosa facilita i controlli? Diventare donatore di sangue. Perché chi dona il sangue periodicamente fa dei controlli. Qualche volta si riescono a fare delle diagnosi precoci proprio perché in corso di una possibile donazione di sangue si fanno degli esami che dimostrano che c'è qualcosa che non fa. Quindi questa è un'altra cosa importante. Donare il sangue. Professore, che cosa consiglia a quei giovani che vogliono intraprendere la carriera medica, soprattutto fare i medici? Io credo che dovrebbero capire se sono portati a fare il medico. Qualche volta uno si iscrive o cerca di iscriversi alla facoltà medica perché il padre, lo zio, il cugino, il fratello fanno medicina. Però lo studente in medicina, ammesso che entri alla facoltà, deve una volta che è entrato capire a che cosa è portato. E per capire che cos'è la parte della professione che gli fa, a cui è portato, deve andare a frequentare i reparti in cui ci sono malati. perché nei primi anni non puoi capire se sei portato a fare il medico oppure no. Le materie sono la fisica, la chimica, poi si comincia a capire qualcosa. E fare l'interno, cioè frequentare come studente interno un reparto di medicina, ti fa capire se sei portato o no. Se non sei portato non è che non puoi fare medicina, puoi andare a lavorare in laboratorio, fare il ricercatore ma non stare a contatto col medico. Grazie. Grazie.